Ciao ragazzi, qui è Andrea e oggi faremo un video della Wii giochiamo con la Wii visto che nessuno mai l'ha fatto e quindi boh buo diverso adesso cerco di mettere apposta ragazza sei pronta? certo a meglio di 5 o 3 ci sono due come si chiamano inizio io a batter visto che sono G1 prima che abbiamo provato a registrare ah poi non riuscivo proprio a giocare eravamo arrivati 40 a 0 più alta ok 30 a 0 dai si gioca bene dai dopo facciamo un altro gioco boh ah ah 40 a 0 dai sei debole però mi ricordo quando quando giocavamo qui mi dicevo sempre io eh si mi dicevi sempre te almeno riuscivi a battere su un colpo ciao ragazzi sono Andrea gioco con la Wii anche nero dai sei zitto papà oh ma no Anna sempre te che fai oh ma non l'ho vista ah 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 mi ha dato il telecomando sul braccio aia ed è pure caduto il cellulare aia chissà da quanto tempo è caduto il cellulare spero poco aia che male madonna io lo spero che veniva fatto il cellulare aia ma anche il muscolo che mi facciamo dai continui sono già due minuti a perdere tempo adria ti botto male si madonna bagnalo ma si ma perchè c'è poco spazio ma adesso mi darò la porta a me c'è tutta la famiglia riunita qua sopra guarda che sta giustando il luce maio non so cosa sta facendo io e mia sorella che giochiamo allora qui mia mamma cosa fai mamma? stende mia mamma stende no la vita abbiamo due piani siamo su due piani chissà non so perché cacchi non so tipo ho tutto il mondo ah no adesso lo ho già detto una volta va va quinto whoo bella mamma mi piace più su grazie esci mi piace proprio il segno che facciamo? facciamo baseball? no non abbiamo l'altro noobback non si chiama adesso ci chiamo pugil io mi alleno da sempre poi da quando non c'è un figlio inizio io a battere cioè a confinare tu devi fare così a colpire e poi quando devi fare così bam bam ecco così capito vai vai veniamoci vai tira così mi sto a lanciare dai sono pronto oh che bello fuori campo leggi asia le istruzioni no si inizia qua sta registrando oh me la mano tutti in campo tutti in campo che divertente io dico che ho sempre vinto a queste cose cacchio fuori cacchio fuori pari pari siamo solo più usati bella la guida bianca e nero bella la guida bianca e nero dai ti muovi cacchio cacchio si però bella la guida bianca e nero boh becchi di questo no cacchio mi hanno eliminato andrera che sono io adesso sono gira e l'ha fatta gira io no boh hai battuto sempre questo non lo sapevo boh che pizza speriamo che ho registrato un video di clash of clans mi vedo aspetta andrò a prendere il telefono no dai no oh adesso sono io a lanciare no asia oh si grande eeeh doppio no aspetta quindi sto perdendo no andrà come è l'asia attenzione ha parco parco quanto siamo? 6 minuti è partita per sbaglio la cosa doppio no mi hai fatto un punto ah si è uscito mia mamma si sta ah dai però ah sono io ah billy buono mia mamma ha appena visto che sta guardando il mio video quello che è uscito billy si è uscito e meno male mi sai lo che hai già fatto perché l'ho fatto ma cos'è? l'ho fatto da 7 minuti femmina ah si è troppo bravo a fare il video ah 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 oh prima eri bravo ah 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 ti sto fregando mi piace la musica come la sua ah goku questo qua è goku sempre come la mia guarda che sto filo ho fatto in stile combinato oh parpo parpo ah ah oh prima eri bravissima adesso fai brevemente carica ah adesso tocca a me adesso ti faccio un bel fuoricampo quanto siamo a 7 minuti dai spero che finisci per adesso la partita parpo nooo nonno ah nonno cosa mi fai? boom no palla fuori no ah si mio c'ho voglia di fare un fuoricampo perchè? perchè? boh perchè? chiara? chiara? chi è chiara? è fatta te? asia oh cacchio mei dai addio perchè dis lui? dai che lui è fortissimo dai però single single sono singolo sono singolo singolo vabbè lui dice singolo boom strike vai cos'è? 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 è un doppio 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 è beccati questo beccati no la prendo il volo no cambia no cambio adesso no però Asia ha barato eh quando un gia finisce oh ho fatto il corso con la di qua no cosa fa cosa fai ma cosa fai Asia perchè ti sei messo con i bracci coffè come che si dice beccati questa no no che c'è qua un singolo visto che dice single ebete ebete ti ricordi di ebete guarda guarda stai giocando in una stai giocando in una dai mamma fai vedere di che cosa sei capace non riesci eh beccati questo no hai preso il mio coso il mio coso coso ma come si chiama il mio coso ma che hai fatto questo? sei stato eliminato sei un po evitata grazie grazie mi hai fatto eliminare Asia no ancora non è Asia per questa è chiara mi sembra allora è questa è chiara è mia chiara è giusto che ci mangio su me beccati questa adesso ahahah dai che vinco dai che vinco dai che vinco beccati di nuovo questa no no è un po' di sbattere solo in faccia aspetta e non mi sarai anche io scusa cambia dai è il mio momento adesso tu devi tirare devi fare così e io devo fare così dai adesso siamo io sono nonna adesso boh oh questo qua sarà un doppio eh ah no un single teasa vieni no no ah ci sono io oh subito prendi la no 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 prendi le oh meno vale no che sicuro è un doppio eh si è ancora un doppio c'è un telefono qua gina vai gina ahahah 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 eh ahahah ma che caccio di nuovo eh stoppa come le fanno i circolio vabbè no di tre minuti no vabbè a concludo quel video mentre l'ho vinto io oh intanto ho fatto ho fatto due punti eh quindi sicuro ho vinto io quindi ciao ciao e alla prossima mettete un bel pollicione su iscrivetevi attento ah che catturato scrivetevi in commento per farvi vedere se ci siete ciao e alla prossima